Una grande manifestazione di affetto andata al di sopra di ogni aspettativa. Questo è un momento che serve per dare nuovo sprint, nuova birra, nuovo coraggio, nuova forza al sindaco perché fare il sindaco è una cosa veramente faticosa in una città dove ci sono tanti problemi però avere dopo due anni e mezzo ancora così tanti amici, così tante amiche che hanno voglia di stringersi attorno al loro sindaco è una cosa che mi fa immensemente piacere. L'importante è che ci sia un'amministrazione salda, stabile, con delle persone oneste e l'onestà in questo momento di grande crisi della politica nazionale e regionale non è un valore secondario. Cercheremo di fare nel migliore dei modi le cose che sarà possibile fare visto che ci sono sempre tante ristrettezze economiche che ci vengono imposte dal livello nazionale. Il mese di gennaio dovremmo inaugurare il parcheggio interrato con oltre 400 posti in fondo a Corso Vittorio Emanuele nell'area di piazzale Mondadori e non so cosa dire, è comunque il primo parcheggio interrato da quando Mantov esiste quindi un segnale importante, concreto, un modo per dire che più che fare delle parole è bene fare dei fatti.